l'associazione internazionale slow food è stata fondata dal nostro prossimo ospite niente meno che carlin petrini scrittore gastronomo carlin benvenuto grazie grazie ti definirei quasi un filosofo del cibo anche noi siamo conterranei spesso ci troviamo a combattere battaglie comuni la difesa del suolo per esempio è una di queste però in questo caso vorrei subito da te un commento su quello che abbiamo visto di questa esperienza in marocco che mi sembra tra l'altro vada anche molto d'accordo con il tuo ultimo libro che si intitola cibo e libertà perché vedere queste donne mi dà l'impressione che qui ci sia proprio in gioco anche la libertà certo rispettare la cultura dei territori e quindi anche la sapienza di un'agricoltura millenaria e metterla magari a regime con le moderne tecnologie è secondo me un elemento di liberazione in particolare il ruolo delle donne che nell'agricoltura in qualsiasi parte del pianeta è sempre stato centrale diventa rivitalizzante per 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 la società per questo tipo di società e quindi un elemento di liberazione quindi quelle donne che diventano protagoniste di questa di questa economia locale che hanno a cuore questi ecosistemi sono senza dubbio un elemento di grande libertà questo porta uno dei concetti cardine che voi tra slow food e terra madre avete sempre coltivato che quello di sovranità alimentare certo il concetto di sovranità alimentare è molto semplice ogni popolo ogni nazione ha il diritto di seminare coltivare produrre il cibo che in quell'ecosistema in quella particolare storia locale è diventato quasi un cibo identitario e quindi avere la certezza che queste coltivazioni possono dare l'autosufficienza alimentare se non tutta almeno buona parte dell'autosufficienza per ogni singolo paese ogni singola popolazione e adesso in gioco c'è anche un altro fatto in per queste piccole dimensioni di produzione a scala insomma di di comunità locale che è quello della sostenibilità dobbiamo pensare anche a un'agricoltura che non comprometta l'ambiente e che sia sostenibile sul lungo periodo che non faccia troppo uso di fitofarmaci che possono rivelarsi tossici oltre che essere anche costosi certo il concetto di sostenibilità molte volte è un concetto iper abusato in questo momento tutti parlano di sostenibilità anche le multinazionali che producono prodotti chimici per il territorio sostenibile ma sostenibile dobbiamo cominciare a capire da che cosa deriva l'etimo di sostenibile deriva dal pedale del pianoforte che si chiama sustain che prolunga il suono quando si suona il pianoforte si schiaccia questo pedale il suono dura di più quindi hanno ragione i nostri cugini francesi che traducono in durable cioè qualsiasi atto che tu fai specialmente in campo agricolo deve avere la capacità di permettere che i risultati positivi di questo atto durino il più a lungo possibile mentre invece ormai siamo entrati in una dimensione dove la velocità vince e si cerca di bruciare i risultati per continuare a investire ormai le risorse del pianeta hanno una loro finitezza quindi sostenibilità di cui sentiamo parlare moltissimo significa avere coscienza che qualunque cosa noi facciamo anche a casa nostra deve essere fatta in virtù perché possa permettere ai benefici che noi ricaviamo di avere una lunghezza più lunga di quella immediata possibilmente per molte generazioni future quindi se non per molte generazioni per un po più di tempo perché vedi c'è questo elemento che il paradigma dominante è consumare consumare quindi tu devi costantemente consumare di più per essere dentro questo sistema forse è arrivato il momento di consumare con più raziocinio avere una visione sul lungo periodo pensare anche che le risorse del pianeta devono essere a beneficio dei nostri figli e dei figli dei nostri figli e non sbranare tutto lasciando il poco al futuro delle generazioni che arriveranno oltre i problemi ambientali che poi si ritorgono compromettendo poi proprio quella produzione esatto schiacciamo il piano il pedale del piano e non quello dell'acceleratore ecco c'è un altro problema che abbiamo già accennato prima che quello dell'eccessivo consumo di carne che dal punto di vista della sostenibilità è deleterio perché mette troppo sotto pressione i sistemi naturali e con anche problemi etici ovviamente sul benessere degli animali ma anche sulla nostra salute come si colloca sugli aspetti legati al forse eccessivo consumo di carne non solo nei paesi occidentali perché abbiamo visto che è un'abitudine che ormai sta passando anche nei paesi come la Cina io penso che visto questo problema su scala globale dobbiamo avere un concetto di contrazione e convergenza contrazione per quelle aree dove il consumo di carne è esagerato noi italiani consumiamo 90 kg di carne al giorno all'anno all'anno gli americani sono a quota 125 ecco in Africa arrivano sì e no a 7-8 kg dire di contrarre in Africa mi sembra proprio un controsenso quindi in Africa devono convergere avere l'opportunità di mangiare un po' più di carne che fa bene ma noi assolutamente siamo a livelli ancora una volta insostenibili perché? perché questo consumo di carne chiede una produzione agricola a beneficio degli animali è enorme se tutti consumassero 100 kg pro capite all'anno di carne non sarebbero sufficienti tre pianeti quattro pianeti per dar da mangiare agli animali che mangiamo quindi questo è ma c'è un altro elemento che è un elemento di beneficio troppa carne ormai appurato genera anche problemi sul fronte della salute e è opportuno ridurre in maniera molto forte per noi occidentali il consumo di carne variare variare l'alimentazione c'è mille opportunità e un po' di carne è giusto averla io sono un onnivoro quindi però ritengo che la carne che consumiamo oggi dei paesi occidentali è esagerata e fa male anche ai viventi e questo ci porta a un altro problema accennato anche prima col direttore FAO dello spreco di cibo che è veramente un insulto indipendentemente dalla fame di coloro che ancora non hanno da soddisfare i propri bisogni ma è un insulto nel quadro generale delle risorse del pianeta che abbiamo detto messe a rischio e non infinite situazione italiana? sullo spreco ah beh siamo a livelli molto sostenuti si parlava parlavi prima di 300 chili pro capite all'anno quindi noi saremo dentro quella e certo richiede un'attenzione forse è uno dei nuovi paradigmi interessanti che noi dobbiamo mettere all'ordine del giorno ridurre ridurre lo spreco alimentare perché è insostenibile proprio non funziona quindi dobbiamo lavorare dal punto di vista educativo dal punto di vista del trasporto delle merci come diceva prima Graziano da Silva ci sono molte cose che contribuiscono a questo spreco che vuol dire il 40% della produzione di cibo a livello mondiale è una cosa che non non sta né in cielo né in terra aggiungo che specialmente questo elemento della fame dovrebbe farci riflettere perché in un mondo come questo il superamento della fame sarebbe il minima la minima cosa che noi tutti dobbiamo riuscire a raggiungere perché è una vergogna planetaria e questo mi porta allora hai detto un problema anche educativo quello del nostro approccio al cibo quindi un tuo messaggio anche per i giovani per le generazioni di oggi forse sai chi aveva un po' più di anni e chi ha un po' più di anni oggi ha quasi bruciato il cibo venendo dalla miseria quindi quasi una boffata per dimenticare le restrizioni di un tempo oggi però chi nasce oggi i nostri giovani oggi che non hanno vissuto quella fase lì dovremmo quindi introdurre l'educazione alimentare in un programma scolastico secondo te? Non c'è dubbio la società contadina quella del primo dopoguerra aveva una trasmissione di conoscenze di saperi che avvenivano da madre in figlia da padre in figlio rispetto alla produzione alimentare oggi questo cordone obelicale è reciso e quindi molti bambini specialmente nelle grandi città non hanno coscienza di come si produce il cibo addirittura non conoscono gli animali allora è giunto il momento in questo nostro paese che l'educazione alimentare entri nella scuola diventa parte attiva magari realizzando degli orti scolastici che sono per loro natura un momento didattico un momento formativo nell'ultimo anno Slow Food in Italia ha contribuito alla realizzazione di 500 orti nelle scuole ma ci sono altre associazioni che lavorano su questo fronte è giusto implementare questo e acquisire l'educazione alimentare come elemento distintivo di questo momento storico è fondamentale per il bene del paese per il bene della nostra comunità un appello ai giovani cercare in tutti i modi di ridare valore al cibo non pensare solo al prezzo c'è differenza tra valore e prezzo valore vuol dire rispettare chi lavora l'ambiente e allora attraverso la condivisione la gioia la gioia di condividere il cibo creare situazioni nuove che possano far diventare l'atto del mangiare il primo atto agricolo se noi mangiamo cibo locale cibo di prossimità cibo biologico rispettiamo la stagionalità aiutiamo un tipo di agricoltura se invece non rispettiamo stagionalità facciamo arrivare le derrate alimentari da un continente all'altro non rispettiamo neanche coloro che lavorano pagando il giusto ai contadini e allora siamo in favore di un altro tipo di agricoltura forse è arrivato il momento in cui noi individualmente possiamo essere protagonisti di questo cambiamento quindi è un invito anche a vedere che cosa c'è dietro il cibo che compriamo immaginare la strada che ha fatto i danni che può aver prodotto sia sul piano sociale sia su quello ambientale pensiamo solo all'emissione di CO2 da trasporto o da coltivazione con metodi energeticamente poco efficienti e ritornando a capire una cosa che produrre cibo anche nel nostro ambito familiare è comunque sempre un atto d'amore e quindi ci vuole rispetto ci vuole educazione e ci vuole generosità questa è una cosa che incominciano ad avvertire molti giovani incominciano a prenderlo per mano si organizzano ceni in casa si organizzano fanno dei piccoli orti la mia generazione ha fatto più danni che la tempesta dicono i contadini delle Langhe è giunto il momento di affidare con molta fiducia e futuro a questa nuova generazione perché sarà quella che favorirà il cambiamento grazie Carlin Petrini grazie mille ciao grazie per essere stato con noi